Guardiamo questo Giro d'Anello del Monte Jaffro. Siamo sopra Bardonecchia e si parte dalla località Bacini. Si percorre la strada militare che va fino al Forte Feun, antico forte di cui rimangono dei ruderi, dei ruderi importanti, dominava tutta la conca di Bardonecchia. Il Giro poi continua salendo la cresta che porta alla vetta del Monte Jaffro. Sempre sulla vetta del Monte Jaffro ci sono altri forti, l'altro forte di cui rimangono i grandi resti, la discesa lungo le piste di sci per tornare al punto di partenza. Ecco un breve video del gruppo dei Magi alla partenza del nostro Giro. La strada militare coperta in parte dalla neve in mezzo alla pineta di Larici. Il video è traballante andando avanti col telefonino in mano, però dà l'idea del cammino. Ecco una curva della strada dal quale si vede un gran bel paesaggio su tutta la valle e la conca, la conca di Bardonecchia. La fontana serve per dissetarsi, magari più d'estate che in inverno. Il sole sorge in fondo e si arriva con fatica al Forte Feu. Ecco un ampio sguardo del Forte, dal piazzale di ingresso al Forte stesso. Dei forti rimangono solo ampi luderi che qui vedi in quattro immagini affiancate. Dopo la sosta al Forte si imparte verso il Jafro. Il cielo va via via peggiorando, le nubi un po' più si addensano. Dal sereno si passa a questo alternarsi di nuvole e di sole. Dopo la lunga salita si è ormai in vista della vetta. La neve si fa decisamente più abbondante e la salita il più faticosa. Qualche sbarcio di Arturo permette di guardare il panorama in basso. Eccoci infine al Forte della vetta del Jafro ripreso qui con quattro immagini. dalla vetta guardiamo le piste di sci del monte Jafro. Nella nebbia è meglio guardare i cartelli per non sbagliare certamente la direzione di discesa. Nave Maria magari di fronte a questa piccola edicola non guasta. Scendendo la nevitata aumenta. Ecco la neve che scende tra gli alberi. Ma un fiorellino riesce a fare capolino anche in mezzo alla neve in queste condizioni più estreme. Andiamo verso il basso in mezzo ai vari impianti di risalita del Jafro. Un uccello ci saluta dall'alto. Un rapace ci saluta dall'alto. Grazie, grazie che hai visto questo video. Grazie, buona giornata. Ciao, ciao.